Che cosa vuol dire davvero discutere in classe? Quali sono i modi, i metodi, le tecniche per favorire una partecipazione attiva degli studenti e promuovere in questo modo non solo le loro capacità espressive, la loro capacità di argomentare in un discorso, in un dibattito anche, ma pensare in maniera critica, sviluppare la capacità di cogliere i pro e i contro di una situazione. Tra le tecniche di cui parleremo troverete il debate, ma anche la discussione d'aula, ma anche il brainstorming, la controversia costruttiva e altre tecniche ancora. Tutto questo con l'obiettivo di fornire ai partecipanti degli esempi concreti da poter sperimentare nella pratica dinattica. Tutto questo è il corso online sui metodi di discussione.